buon pomeriggio a tutti cari amici finalmente sono rientrato e c'è ancora l'ospite di questa mattina e sostituire una caldaia non è mai facile detto papale papale comunque con un occhio stavo vedendo roe con un altro stavo seguendo la partita del nostro sinner numero 78 atp che purtroppo non ce l'ha fatta contro Imer numero 76 ha perso per 2 7 a 0 rispettivamente 6 3 6 4 36 minuti il primo set 49 il secondo per un totale di un'ora e 25 la vittoria di era quotata tra il 2 10 e 2 20 allora pare che in francia non ci sono più italiani che giocano oggi ci sarà cecchinato in argentina ma gioca in darda serata italiana le 23 quindi noi però ci vediamo più tardi perché farò un video dedicato alla igor gorgonzola novara di pallavolo che alle 17 ore italiana giocherà credo in russia dovrebbe essere per una nuova partita di champions league di pallavolo femminile quindi ribadiamo Imer bat il nostro con nazionale sin per 2 7 a 0 6 3 6 4 in un'ora e 25 secondi grazie a tutti a più tardi